Sapete che non ho paura di mostrare i miei sentimenti, si cerca di fare gli uomini duri, ma... Io credo che, sapete, io sono l'espressione della mia famiglia, io sono qui e sembra che io abbia tutti i meriti e ringrazio per questo, ma come ha detto Ada, io sono solo quello che la mia famiglia ha permesso di essere, insomma, e ringrazio veramente la mia famiglia per tutto quello che ha saputo darmi, che mi dà tutto il sostegno, tutta la pazienza, anche i figli che, insomma, avevano un figlio, il papà di Acolo con me è semplice, hanno trovato afferrovo le loro difficoltà e tutta la pazienza che hanno avuto nei miei confronti. Noi siamo venuti qui e abbiamo amato questa chiesa, abbiamo amato con tutto il cuore questa comunità. Abbiamo cercato di dare, ma abbiamo anche tanto ricevuto. E portiamo a casa qualcosa che è veramente indimenticabile. Ada ha espresso tutto, praticamente. A me non rimane altro che ringraziarvi con tutto il cuore, per tutto il bene che avete saputo darci. Ringraziamo tutte le persone che ci hanno voluto bene, che ci sono state vicine, che in qualsiasi modo ci hanno fatto sentire il loro affetto. E volevo ringraziare anche, non vorrei dimenticare nessuno, ma a Maria ci pensavo, no? Il nostro coro qui, al quale vi facciamo un applauso. E' una fedeltà con la quale in stedici anni non sono mai mancata, a parte il periodo estivo perché bisogna approzzarsi anche un po'. E non sono mai la fedeltà anche perché assenti, un grazie di cuore. Vogliate bene a questa chiesa, che non è fatta di muri. Noi abbiamo creato un posto accogliente dove le persone si possono incontrare e volersi bene. Questo è lo spirito della chiesa e ci si trova bene insieme, allora anche in un posto accogliente. Noi prima abbiamo fatto magari il posto accogliente, poi pian piano ci siamo trovati bene insieme. Ma vogliate bene, vogliatevi bene e frequentate ancora questa chiesa. Non dimenticatela, ecco, non lasciate che diventi di nuovo un luogo, magari così, laggiù, alla perferia di Gradisca. Ringrazio tutti, anche Don Maurizio, in particolar modo perché mi ha permesso di esercitare il mio ministero in un modo che difficilmente altri diacomi lo possono fare. Io ho potuto esercitare il mio ministero in tutte le sue forme. A volte è sembrato magari che io diventassi quasi un parroco, ma anche questo ha fatto parte della mia esperienza, del mio bagaglio e della ricchezza che porto con me. Lo ringrazio perché ha espresso il suo cuore anche in forma così non diretta, ma io ho imparato a leggerlo in questi trent'anni che lo conosco, ho ben presente cosa ho voluto comunicare. Gli sarò vicino anche quando magari non sarà più a Gradisca, ma lui sa che potrà contare sempre su di me. Voi sapete che anche nei matrimoni più belli, no? Le discussioni ci sono sempre e ci sono anche momenti di tensioni duri, ma i matrimoni non sono fatti così e se ci si vuole bene si ritorna anche, si è capaci anche di rimettersi insieme e non lasciarsi come fanno i morti. Ringrazio il recivescolo, Monsignor Dino per essere qui oggi, lui mi ha accompagnato, ha avuto tanta fiducia in me. Lo ringrazio per l'affetto paterno che ha avuto nei miei confronti. anche nei momenti difficili ha saputo valutare e dare la possibilità alla riconciliazione fraterna. Se avesse preso delle decisioni altre probabilmente tutto questo non avrebbe potuto succedere, accadere. E quindi anche come pastore lo ringrazio di cuore. e cosa vi dico? Vorrei abbracciarvi tutti. Vi voglio bene. Ci saranno occasioni di vedersi senz'altro e portatemi nel cuore come io, come noi, portiamo ognuno di voi. Grazie. 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 Grazie.